Ciao, sono Gianfranco Manfredi, sono in macchina fermo perché uno, non c'ho la patente, due, non so se funziona l'autocertificazione in questo caso, comunque è un'illusione di movimento. Sono qui per rispondere alle domande giunte su Instagram, su Canisciolti, sarò breve perché c'ho fretta. Qual è il personaggio più vicino a te? Sì, lì namastai perché sta in Vatellina, non tanto distante da qua, i suoi hanno un bar in cui andavo spesso prima del coronavirus, chissà quando la rivedo. Due, quale personaggio ha camminato più sulle sue gambe durante la realizzazione della storia? Quello che ha camminato meno sulle sue gambe è Deb, perché si è infortunato sciando a Silvaplana, cima alla valle, qua su, a dicembre, quindi si è perso il 12 dicembre l'esplosione di Piazza Fontana, pensa che sfortuna perché era in Svizzera. Questa immobilità del personaggio mi ha stimolato perché siccome la storia era molto drammatica e agitata volevo spezzarla con qualcosa di un po' comico, anche se non è comico fratturarsi una gamba sugli sci, ma fa niente. Tre, a quale argomento raccontato in Cani Sciolti sei più legato? Caro, non so chi mi ha fatto questa domanda, o sono sciolti o sono legati, quindi legato affettivamente o per partecipazione sì, ma non legato in altro modo. C'è un episodio in cui non sono legato affatto perché non lo conoscevo, però una mia amica americana, ciao Patti, grazie, mi ha regalato questo libro. Questo libro racconta di un party fatto da Truman Capotti al Plaza Hotel a New York, un party elegantissimo di grandi personalità dell'epoca, hanno partecipato Frank Sinatra e Mia Ferrov, Gianni Agnelli e Marella Agnelli, l'economista Galbraith, eccetera, eccetera. Un party che fece in qualche modo scandalo perché era un party elegantissimo nel momento in cui c'era la guerra in Vietnam, quindi in Cani Sciolti volevo dare anche un po' l'idea di quali erano certi costumi della borghesia nel periodo e quindi questo è stato un episodio particolare ma bello da raccontare. Quattro, perché hai scelto di raccontare Milano? Vabbè, perché Milano è un gran Milano, cioè io a Milano sono arrivato a Milano che avevo otto anni, quindi tutte le mie esperienze sono a Milano, quindi ho raccontato Milano. Cinque, come ti sei rapportato con i disegnatori? Via mail perché già da prima del coronavirus ormai tra i disegnatori che scrive ci si incontra pochissimo. Due, noi incontrati De Visu perché quelli che facevano più numero di puntate, cioè Casalanguida e Pedro Mauro, quando dal Brasile Pedro Mauro e dalla Puglia Casalanguida sono venuti a Milano e li ho portati a fare un giro di tutti i luoghi che riguardavano gli anni 70 di Milano. Credo che sia stato terrorizzante per loro, si siano annoiati moltissimo ma almeno li hanno visti. Sei, si tratta di una serie piuttosto anomala per Bonelli, come mai questa scelta? Perché in quel momento la situazione di Bonelli era anomala. Sette, ci racconti un aneddoto legato alla tua vita presente in Canisciotti? E questo è facile perché la serie Canisciotti attualmente è interrotta e anche la vita presente, come tutti sappiamo, è interrotta. Alla prossima, ciao, grazie.